In Campania si accende lo scontro per la campagna vaccinale. Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, stoppa immediatamente le intenzioni di ammutinamento del presidente della regione, Vincenzo De Luca, che da Benevento ha annunciato di non voler procedere sui vaccini solo per fasce d'età, ma intervenendosi i settori economici per dare respiro al tessuto produttivo. Dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili, a curare le persone anziane, ma lavoreremo su due piane. Lavoreremo anche sui settori economici, perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce d'età, quando avremo finito le fasce d'età, l'economia italiana sarà morta. Arriva a strettissimo giro lo stop di Figliuolo, che ribadisce che la campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza aderoghe ai principi che lo regolano. Ma De Luca controbatte. La priorità agli oltreottantenni e ai fragili è scontata. Per i primi le inoculazioni termineranno questa settimana, per i non deambulanti entro le due settimane successive. E le ASL impegneranno task force specifiche per le categorie fragili. E poi accusa il governo sulla carenza di vaccini e spinge per procedere all'approvvigionamento dello Sputnik. Siamo l'ultima regione a ricevere vaccini in proporzione alla popolazione. Questo è uno scandalo. Non so se è chiaro. Io ho parlato e riparlo di mercato nero dei vaccini. Io sono per fare un'operazione di verità e di trasparenza assoluta. Bisogna dire sempre quanti sono i vaccini consegnati, in base alla popolazione, e quali tipi di vaccini sono consegnati. Grazie.